Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere i segreti del successo di uno dei calciatori più forti ancora in attività. Si tratta dell'asso portoghese Cristiano Ronaldo. Cominciamo subito. Numero 1. Comincia senza pensarci troppo. A prescindere dai vostri talenti o dalle vostre passioni, non pensate subito a diventare i migliori al mondo in ciò che fate. Cominciate a praticare ciò che amate e a divertirvi. E' così che la carriera di Ronaldo cominciò ad otto anni mentre giocava in una squadra di ragazzini della sua città, cominciando ad appassionarsi sempre di più al gioco del calcio. Numero 2. Si competitivo. In qualsiasi cosa facciate siate competitivi. La competitività è quell'adrenalina che aiuta a migliorare giorno dopo giorno. Numero 3. Cerca sempre nuove sfide. Se una sfida vi può aiutare a migliorare, ad imparare qualcosa di nuovo, a fare nuove esperienze, sfruttatela. Non rimanete intrappolati nella vostra monotonia quotidiana. Trovate modi per espandervi. Numero 4. Conosci le tue priorità. Ogni persona ha molte passioni o molti hobby, ma non può seguire tutto con la stessa intensità. Cercate di stabilire delle priorità, cercando di dedicare il giusto tempo a tutti i vostri hobby. Numero 5. Non prestare attenzione a coloro che ti giudicano. Le persone ti giudicheranno sempre, specialmente coloro che non ti conoscono bene. Bisogna rispettare tutti, ma non si deve per forza essere d'accordo con tutti. Numero 6. Lavora sodo. Ronaldo dice che il segreto della longevità della sua carriera sta proprio nel duro lavoro ogni giorno, senza eccezioni. Ogni persona deve adattare questa regola alla propria vita. Anche chi ha diverse professioni può implementare questa regola, impegnandosi al massimo ogni giorno in quello che fa. Numero 7. Credi ciecamente di essere il migliore. Se non lo fai, non puoi avere ambizioni. Questo può non essere vero, ma devi comunque crederci nella tua mente. Se credi di essere il migliore, allora sai che per rimanere tale devi impegnarti al massimo. E magari più degli altri. Numero 8. Gioca per la squadra. Numero 9. Goditi il momento. Celebrate i vostri successi, grandi o piccoli che siano. Saranno momenti che vi rimarranno in mente in futuro e vi serviranno da motivazione per fare meglio. Ed infine, ultima regola, avere senso dell'umorismo. Non bisogna prendere sempre tutto con estrema serietà. Ronaldo è famoso per lo spirito di squadra che riesce a creare in tutte le squadre in cui partecipa o fa parte. L'umorismo aiuta ad integrarti in tutti i contesti con ogni persona. Questi erano i segreti del successo di uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Si tratta di concetti che aiutano a mantenere non solo una grandissima ambizione, ma anche a rimanere sempre presenti in quello che si fa. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!